carissimi fratelli juventini e sorelle juventine il nodo si è sciolto in che senso ci sono tante voci che si rincorrono su chi arriva la juventus hanno fatto tanti nomi poi finalmente se ci si è fermato su tiago motta i milanisti che si arrabattano perché sperano di portarlo via da juve ma sanno benissimo di mentire quando dicono che c'è una possibilità perché anche se il milan ha ricontattato tiago motta tiago motta ha dato la parola a giuntoli e da quel che posso sapere io tiago motta non è un quacquara qua se dà la parola la mantiene giuntoli ha puntato tutto su di lui tant'è tant'è che e qui lo rivela moggi quindi non è max montagna che lo dice quindi se non vi fidate di me spero che vi fiderete di moggi che quando dice le cose le dice perché le sa non perché se le inventa ha raccontato in un pezzo che ha scritto sul libero proprio ieri ha raccontato che galliani quando ha incontrato giuntoli per il discorso sul portiere di gregorio che pare verrà la juventus per sostituire per adesso si parla di perin però poi non è escluso che vada via anche cesni quindi la juve metta di gregorio titolare e poi prenda un portiere diciamo di secondo livello magari un giovane come secondo comunque al di là di questo si sono incontrati e moggi rivela io non vedo perché non dovrei crederlo visto che ormai la cosa abbastanza la parissiana rivela che galliani avrebbe detto giuntoli scusate avrebbe detto a galliani che è intenzionato ad esonerare allegri praticamente gli ha detto guarda che lo esonero il mercato lo faccio io senza consultarmi perché probabilmente galliani che è rimasto in buoni rapporti con allegri gli avrà probabilmente detto ma tu con allegri ti sei sentito sei d'accordo cioè quindi giuntoli giustamente non può glissare fatto sta che però galliani che è un po una gola profonda perché l'ho sempre stato evidentemente e ha rivelato ad allegri questo non so come moggi sia riuscito a saperlo però sapete che moggi insomma è un po è un serpentello che si infila da tutte le parti e ha rivelato ad allegri guarda che ti mandano via cioè ti dico ufficialmente che giuntoli mi ha detto che ti mandano via quindi non è più una butade oppure un sensazionalismo giornalistico è la verità è la verità la juventus ha intenzione di esonerare allegri ma questo penso che si sapesse già adesso però con l'imprimato di luciano moggi che per molti juventini è paragonabile a san francesco per coloro che credono nella chiesa io sinceramente non faccio parte di queste categorie perché sono convinto che moggi avesse ha fatto delle sciocchezze se stava zitto stava tranquillo la juve vinceva lo stesso senza bisogno dei suoi casini non dico magheggi ma dico casini e ce l'hanno fatta pagare cara perché avremmo probabilmente una centina su due in più con la squadra che aveva costruito e probabilmente qualche scudetto in più non che gli scudetti ci manchino però insomma fa sempre comodo come si suol dire no vedete come ha festeggiato gli interisti per cui signori adesso tutti tutti i tasselli di questo mosaico intricato non tanto intricato sono venuti diciamo ad essere scoperti se anche moggi che fino a un paio di settimane fa difendeva allegri diceva che allegri non dovevano esonerarlo che non dovevano quindi ormai il cerchio è chiuso perché se anche moggi ha calato le braghe come si dice in gergo evidentemente lo sanno tutti tra l'altro lui fa un riferimento su questo voglio soffermare un secondo importante dice che le motivazioni per cui in questa ultima settimana ci sono stati dei battibecchi dei litigi di malumore tra i giocatori e il tecnico sono dovuti proprio al fatto che i giocatori sono venuti a conoscenza in maniera abbastanza chiara che allegri verrà mandato via e quindi diciamo essendo stato defenestrato e in poche parole i giocatori insomma dicono io lo mando a fancourt tanto l'anno prossimo non c'è più no per dire un esempio stupido come se voi lavoraste in un ufficio sapete che il capo che vi sta sulle palle andrà a lavorare in un'altra azienda in un altro caso lo mandate a cagare prima che sia troppo tardi no cosa che magari qualcuno ha fatto veramente fatto sta fatto sta che sostiene moggi e concludo con questo video sostiene moggi che io sono d'accordo con moggi è qui qui sono d'accordo con lui non sono spesso d'accordo con moggi ma qui sono d'accordo con lui sostiene che la juventus avrebbe dovuto dire chiaramente ad allegri sempre che non l'abbia fatto e si sono messi d'accordo non dire nulla ma comunque lui sostiene che avrebbero dovuto dirlo chiaramente sia ad allegri ma anche in presentazione a fine anno allegri ci lascerà troveremo l'accordo con lui e verrà un altro allenatore senza comunicare che verrà tia pomotto a cosa però sarebbe secondo me meglio che la juventus si svegliasse perché è vero che il milan ci sta provando con tiago motta è vero che il milan probabilmente beccherà un 2 di picche da tiago motta attenzione però perché se la juventus cincischia io non conosco i metodi di giuntoli quindi mi fido di lui ma se la juve cincischia come è capitato in passato rischiamo veramente che il milan ce lo porti via vi ricordate quando noi portiamo via tevez al milan tevez era in pizzeria con galliani che praticamente stavano festeggiando la prodo al milan qualche giorno dopo marotta lo portò via al milan e tevez fortunatamente per noi venne alla juventus quindi bisogna stare molto attenti perché nel mercato le notizie anche quando si sanno come questa qua di tiago motta la juventus possono avere una un'impennata o una via rata diretta in un'altra situazione perché magari c'è un titubare o un dormirci sopra ecco questo è così che funziona il mercato comunque ne avremo modo di parlare quando farò la rubrica calcio mercato in uso di queste cose la cosa importante è che oggi ha pubblicamente detto su libero il giornale con cui collabora dal 2006 che galliani ha praticamente fatto sapere ad allegri che giuntoli gli ha riferito che con allegri l'argomento juventus finirà a fine maggio come ho detto ieri in meno 26 dalla liberazione oggi ovviamente essendo primo di maggio meno 25 alla liberazione ciao e buona festa